Con la cena a quattro mani si sono concluse le prime attività invernali dell'Hotel Palace di Ustuni che hanno visto protagonista il buon cibo realizzato dallo chef abbinato ai vini scelti dall'esperto Stefano Semerano. Cena a quattro mani, chef Massimo Santoro e chef Antonio Marraffa, due chef talentuosi, virtuosi del territorio che con l'utilizzo di materia prima di alta qualità a chilometro zero ci permettono un pochettino di organizzare questa serata composta da convivialità e da quella che è un po' l'aspetto sensoriale utilizzata con l'abbinamento di vini ai piatti da loro composti. Sotto questo aspetto appunto di convivialità e di compartecipazione degli chef è un po' stata la serata alter ego a fine di quattro serate che si sono succedute dal 19 novembre da quella che è stata la prima con Non chiamatemi solo Novello un confronto tra Beaujolais Nouveau e Novello Italiano, una serata gioviale che ha permesso sempre con i piatti composti dallo chef Antonio Marraffa di giocare un po' con questi due tipologie di vino. Altra serata è stata quella dell'Ottavianello Eco in compartecipazione con Slow Food e Slow Wine che ci ha permesso anche qui di creare interesse verso le aziende locali di produzione di un vitigno autoctono di Ostuni come appunto l'Ottavianello Doc assaggiando cinque produzioni locali. Altra serata, quella dell'Odelnebbiolo che è stata successiva e il re dei vitigni dove si è presentato con un baruolo, nel barbaresco, un'espressione eccezionale accompagnato da un menù eccellente da parte dello chef Antonio Marraffa. Queste quattro serate sono nate un pochettino con l'intento di creare interesse no gastronomico sul territorio e da questo siamo riusciti ad avere un grande riscontro sia nella partecipazione ma anche da parte della gente. C'è stato anche tanto interesse dove sono arrivati anche complimenti da chi non ha partecipato e ha avuto interesse in questa idea. Questo ci gratifica, ci dà grande stimolo per il futuro. Ci auguriamo un pochettino di poterne creare delle altre nuove e di ripeterle anche visto le richieste che ci sono state. Quindi ringrazio chi ha partecipato sia i produttori locali e anche chi come Ice e come Slow Food ci ha accompagnato in queste quattro serate. Nell'ultima serata la cena a quattro mani realizzate dallo chef Antonio Marrazza in collaborazione con Massimo Santoro, chef residence di Masseria Le Carrube. La serata nasce dalla voglia di mettere insieme due filosofie diverse di cucina. Quella dello chef Santoro è una cucina vegetariana, prevalentemente vegetariana e quella nostra dello Stony Palace è una cucina prettamente mediterranea con il menù di stasera è prevalentemente mare, quindi piatti a base di pesce con dei piatti ideati dallo chef Santoro con una base vegetale. Io e Antonio ci conosciamo professionalmente da poco tempo, ci è venuta questa idea perché nell'ambito di un concetto di qualità, quindi iniziare a unire chi in questo territorio fa qualità nella gastronomia e nell'accoglienza. Quindi diciamo allo spirito di questa prima serata che speriamo diventi un'abitudine non solo fra noi due ma anche fra altri colleghi che sposano i nostri concetti di qualità. Che nonostante siamo diversi perché io faccio una ristorazione di masseria quindi mi autoproduco tutto praticamente in cucina e nell'orto ed è cucina vegetariana nonostante siamo così diversi in realtà dimostriamo che nella qualità possiamo stare insieme e gioviamo solo al territorio e alla ristorazione del territorio. Il nostro territorio ci offre una vasta gamma di prodotti quindi poi andare a trovare il punto d'incontro non è così difficile specialmente quando parliamo dei vegetali e quindi delle verdure visto che il nostro territorio ci offre e ci dà la possibilità di divertirci quindi io reputo che non è molto difficile perché comunque abbiamo una vasta gamma di prodotti che il territorio ci offre e di conseguenza riusciamo a trovare sempre il punto d'incontro anche nell'ideare i piatti e quindi che ci permettono poi di divertirci e di emozionare a tavola. Anche quest'anno però lo chef del Palace non ha voluto far mancare agli affezionati clienti il panettone artigianale realizzato come nella tradizione milanese. Avevamo la voglia quindi lo spirito di fare quindi nonostante la pandemia ci siamo messi in gioco abbiamo iniziato quasi per gioco a produrre i panettoni per noi poi il gioco si è fatto un attimino come dire abbastanza interessante e poi abbiamo prodotto un bel numero di panettoni ci siamo divertiti diciamo quest'anno poi la richiesta ce l'avevamo i clienti affezionati del panettone dell'anno precedente ci hanno permesso anche di farlo quest'anno ebbene siamo partiti anche quest'anno con la produzione dei nostri panettoni che è stata una bella vetrina io dico che è stata una bella vetrina ci ha consentito di mantenere aperta la vetrina e di conseguenza cavalchiamo quell'onda positiva dell'anno scorso. Poi il panettone è simbolo del Natale ognuno di noi lo personalizza ognuno di noi lo idea lo realizza come meglio crede con l'ingrediente che va di moda quest'anno quest'anno per esempio abbiamo lanciato il panettono col caffè poi andando a vedere tra colleghi e cose ci siamo confrontati abbiamo visto che comunque il caffè quest'anno il panettono che è andato di moda quest'anno per il Natale 2021 il panettono al caffè e noi ci siamo un attimino abbiamo realizzato il nostro panettono al caffè con la crema di mandorla all'interno un giusto veramente un giusto come abbinamento l'intensità del profumo del caffè che esposa la dolcezza della mandorla veramente molto buono sono soddisfatto del risultato che abbiamo ottenuto e vedremo adesso il risponso dalla parte dei nostri clienti di chi acquisterà il nostro panettone e vedremo ciao 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 ciao